Aldo, YouTube intitolato La voce del silenzio, sono in questo tunnel, in questa luce di colore dove prevale artisticamente al di fuori di questo tunnel delle bellissime luci, serale, rosse, verdi, gialle, arancione, ma devo dire che qui sto un attimo in silenzio per meditare, per meditare la voce del silenzio, sì, tunnel di Bisceglie. Sono qui in zona di Bisceglie, sto cercando Aldo. Sono qua! Non c'è. Dove sei? Ma... È la mia opera d'arte che ho fatto vicino a mia famiglia. Ciao! Ecco, Ronaldo! Ciao, sono qua! Nel sottopassaggio mi collega per andare a l'Upercoppe. Zona, mi sceglie, vado. Sceglie il campo. Aspetta, posso passare. Bene, vi saluto. Sono Milano, comunque. Ciao! La voce del silenzio. La voce del silenzio mi appare. Aldo racconta gli incontri d'amicizia. Io, oggi, oggi, il 27 dicembre 2021, sono in questo tunnel di fronte a me, al centro commerciale. Ho fatto il ponte di ferro da Baggio per venire in questa zona bella di Bisceglie. Ma perché io sono venuto qua, sotto questo bel tunnel, mi chiedo, con tanti disegni di murales. Ebbene, sono arrivato qui con un'ora di anticipo ad aspettare un mio amico, un mio amico dall'animo gentile. Devo dire, anche lui, è uno youtuber, ha un canale che ha raggiunto il record di visualizzazioni, di iscritti soprattutto. E' un'ora tutto.